Quattro persone a processo per le modalità di realizzazione della passerella al ponte di Tiberio, contestati i fori nelle mura medievali. Sono ancora troppi i riminesi sanzionati per l'uso del cellulare alla guida. La polizia locale presenta il bilancio del 2022. Coronavirus in una settimana in regione raddoppiati i nuovi casi ma la situazione degli ospedali resta sotto controllo. Scendono le intensive. Calcio. Il Rimini domani in campo ad Ancona per la Coppa Italia. Da questa sera su Icaro TV una nuova trasmissione sul basket in Emilia Romagna. Si parte con coach Messina. Buonasera e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione di Icaro TV e di Icaro Play. La realizzazione della passerella al ponte di Tiberio risalente al 2018 ha portato al rinvio a giudizio per quattro persone. La procura le accusa di uso non conforme di bene storico e danneggiamento. Vediamo. Polemiche mediatiche, interrogazioni in consiglio comunale e assemblea regionale, addirittura due sposti presentati in procura. La realizzazione della passerella al ponte di Tiberio, che all'epoca era il marzo del 2018, destò un grande clamore, nel frattempo è finita in tribunale e oggi si trovano a processo quattro persone. Si tratta di Vincenzo Napoli, l'allora funzionario incaricato della soprintendenza di Ravenna di valutare il progetto del Comune di Rimini e la sua realizzazione, Daniele Fabri, l'allora responsabile del procedimento per il Comune di Rimini, Federico Pozzi, il direttore dei lavori del Comune di Rimini e Antonio Petrone, legale rappresentante della ditta esecutrice. La procura accusa gli imputati di uso non conforme di bene storico e danneggiamento, un reato quest'ultimo che è stato contestato dal PM ieri in aula e che ha allungato i tempi di prescrizione di due anni e mezzo, portandoli dai cinque previsti inizialmente agli attuali sette e mezzo. L'intero procedimento, infatti, si sarebbe dovuto prescrivere nel giugno del 2023, essendo l'iscrizione a ruolo avvenuta nel 2018 in concomitanza con il termine dei lavori pubblici. L'accusa ha sempre sostenuto che i fori, circa un centinaio in tutto, di mezzo metro di diametro l'uno, realizzati lungo le mura medievali per inserirvi sostegni in grado di reggere la passerella, avrebbero danneggiato irreparabilmente un bene storico. Di tutt'altro avvisi difensori degli indagati, secondo i quali l'opera non solo è stata correttamente autorizzata, ma non comprometterebbe in alcun modo la conservazione del bene storico, una battaglia legale che si pronuncia lunga e che si giocherà anche sulle consulenze tecniche dei periti. Parliamo ancora di cronaca giudiziaria. Lo scorso 22 aprile uccise la moglie all'interno del loro appartamento in via Portogallo, a Rimini, alle celle, con 12 fendenti, quasi tutti diretti al collo e al torace della consorte, la 59enne Angela Avitabile. Per il perito incaricato dal GIP, però, l'assassino Reo Confesso, il 62enne Raffaele Foglia Manzillo, all'epoca dei fatti, era totalmente incapace di intendere e volere. A stabilirlo è stato lo psichiatra Renato Ariatti, che ha riscontrato in Foglia Manzillo un disturbo delirante e paranoide che lo affliggeva da tempo e che lo rende tuttora un soggetto socialmente pericoloso. Conclusioni che non convincono del tutto, però, la figlia della coppia costituita, si parte civile nel procedimento, attraverso l'avvocato Aidi Pini. Per questo il legale della donna ha chiesto e ottenuto una perizia di parte. Foglia Manzillo, difeso dall'avvocato Viviana Pellegrini, è attualmente detenuto al carcere dei Casetti. Sono ancora centinaia i riminesi sorpresi alla guida col cellulare in mano, un'abitudine molto pericolosa. La polizia locale, presentando il report dei primi nove mesi del 2022, ribadisce come si tratti di una delle prime cause degli incidenti stradali. L'uso del telefono alla guida è ormai una vera e propria piaga, difficile da estirpare ma molto pericolosa. Nonostante le varie campagne di sensibilizzazione, infatti, il report della polizia locale di Rimini testimonia una situazione ancora fuori controllo. In nove mesi, da gennaio a settembre, sono stati 297 i conducenti sorpresi alla guida con lo smartphone in mano. In tutto il 2021 furono 332, ma il picco si toccò nel 2020 con 651 infrazioni. Secondo i dati Istat, proprio la distrazione al volante è la prima causa di incidenti in Italia, ancora più del mancato rispetto della precedenza o dell'eccesso di velocità. E guidare col telefonino in mano allunga i tempi di reazione del 50%. Mandare un messaggio equivale a guidare al buio per 10 secondi, digitare un numero di telefono 7 secondi di buio e farsi un selfie addirittura a 14, cioè dai 300 ai 500 metri di strada percorsi come bendati. L'ANAS ha stimato che per fermare il veicolo mentre si usa il cellulare occorrono 39 metri rispetto agli otto che basterebbero in condizioni normali. Purtroppo, evidenzia l'assessore alla sicurezza Iuri Magrini, si tratta di violazioni irrilevabili solo con il riscontro diretto degli agenti che operano in strada. Sono pochi, infatti, i casi in cui a seguito di un incidente è possibile ottenere conferme dalle società telefoniche. L'uso del telefonino durante la guida prevede anche una sanzione piuttosto cospicua, 165 euro e la decortazione di 5 punti dalla patente. In caso di analoga violazione nell'arco di un biennio scatta anche la sospensione da 1 a 3 mesi della patente stessa. Siamo al coronavirus. Oggi i numeri del contagio tornano ad assestarsi sulle medie recenti dei giorni infrasettimanali e però dal report della regione emerge un sensibile aumento del contagio, un aumento che al momento non riguarda però gli ospedali. Sono 253 oggi nuovi casi di coronavirus in provincia di Rimini. Solo Bologna con 622 casi e Modena 570 ne hanno di più. In Emilia-Romagna i nuovi contagi sono 2.721 su 12.255 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul totale dei test è del 22,2%, in aumento rispetto al 18,4 di ieri. Il report settimanale della regione conferma la brusca risalita del contagio. Nella settimana 27 settembre, 3 ottobre, i nuovi contagi sono stati 18.691 rispetto ai 9.933 della settimana 20-26 settembre. Ma per gli ospedali la situazione resta sotto controllo. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive in Emilia-Romagna scendono a 19, 4 in meno rispetto a ieri. Rimini resta a 2. I pazienti ricoverati negli altri reparti Covid sono 734, 10 in più di ieri. Le nuove guarigioni sono 1.238. I casi attivi salgono a 28.449 rispetto a ieri, 1.479 in più. In regione si registrano purtroppo quattro decessi, tre tra Bologna e Reggio Emilia e un 44enne residente fuori regione, il cui decesso è stato registrato dall'Ausl di Ferrara. Sarà l'Amerigo Vespucci, la nave scuola vanto della Marina Militare Italiana, l'ospite speciale dei festeggiamenti per il centenario di Riccione. L'appuntamento è per l'11 ottobre. La Amerigo Vespucci stazionerà a largo di Riccione dalle 10.30 alle 21.30. Con l'accensione delle luci intorno alle 19.30 per una coreografia tricolore e a chiudere la serata, con la partenza poi della nave, saranno i fuochi d'artificio. Ne dà conferma il sindaco Daniela Angelini, rimandando alla conferenza stampa di giovedì prossimo, quando l'evento sarà presentato nei dettagli. Si è tenuta ieri sera in sala Manzoni, a Rimini, la prima serata della formazione per catechisti ed educatori della diocesi. Una serata che sarà poi riproposta su Icaro TV venerdì sera alle 21.10. Il tema del percorso in tre tappe è educare alla pace, come parlarne a bambini e ragazzi. In un tempo funestato dalla guerra, con notizie che si fanno sempre più violente, educare alla pace diventa urgente e necessario. Come parlarne a bambini e ragazzi il tema della formazione per catechisti ed educatori proposta dalla diocesi di Rimini. Il desiderio è quello di partire proprio dai piccoli per creare il desiderio, l'esigenza di crescere nella pace. La pace ha un valore assoluto, non c'è nulla che possa mettere in dubbio la pace nella nostra vita, eppure ci accorgiamo che è fragile. Allora vogliamo insegnare ai bambini che come si può litigare, si può rovinare la pace, si può anche rimediare attraverso un chiedere scusa, fare un passo verso l'altro, perdonarsi a vicenda. Questa pace è fragile, è bellissima, vale la pena anche a volte di schiazzare il nostro orgoglio e fare un passo verso l'altro. Il primo ospite degli incontri in Sala Manzoni è stato il teologo Paolo Curtaz, che ha parlato del tema utilizzando tre personaggi del Vecchio Testamento, che si sono confrontati con la violenza. Caino, che non accetta invidia per quello che Dio fa, perché non accetta il suo sacrificio. Giacobbe invece che ha ingannato sempre, che è un grande mentitore, alla fine ritorna sui suoi passi per riconciliarsi con Esau, e Giuseppe è venuto dai fratelli, che alla fine perdona i suoi fratelli. Quindi queste tre dinamiche. Lei ha detto che la guerra è un frutto marcio che arriva prima, cosa significa? Significa, questa è una riflessione già dei parti della Chiesa, poi ripresa addirittura nella Gaudium et Spes, cioè le grandi guerre non sono che la somma delle piccole guerre che portiamo in noi e tra di noi. Perciò il cristiano è un pacifista, ma perché è pacificato? Perché dentro di sé ha incontrato Cristo, ha trovato il suo posto nel mondo e sa come relazionarsi con gli altri. Lei ha detto che oggi i catechisti e gli educatori non sanno più ascoltare i ragazzi. Diciamo che ho detto ancora di peggio, che siamo noi adulti che non sappiamo più ascoltare i ragazzi, non abbiamo più tempo, siamo stanchi, snervati. Chissà, forse nella catechesi basterebbe già solo questo, cioè senza preoccuparsi tanto di passare troppi contenuti, dare ai ragazzi l'idea di un luogo in cui possono essere ascoltati, accolti, mi sembra già un bel posto. Il prossimo sguardo attraverso immagini di pace sarà quello lunedì prossimo di Suor Maria Gloria Riva. La formazione si chiuderà il 17 ottobre con la messa presieduta dal vescovo in cattedrale e il mandato ai catechisti. Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Domani si gioca il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. Il Rimini sarà impegnato al Del Conero contro l'Ancona. I romagnoli sono galvanizzati dal 3-0 con l'Alessandria. I Dorici sono reduci da un inatteso K.O. interno 1-2 con l'Aquila Montevarchi. Calcio d'inizio alle 14.30 con diretta su Radio Icaro. Ascoltiamo la vigilia del tecnico del Rimini, Marco Gaburro. Una partita sicuramente di livello perché secondo me la rosa dell'Ancona è una rosa molto competitiva. È stata costruita per fare un campionato di vertice che in questo momento si trova abbastanza in difficoltà o meglio non in difficoltà assoluta però rispetto forse un po' alle aspettative da quello che percepisco e quindi da questo punto di vista è una squadra che in questo momento qua penso utilizzerà la partita di Coppa per ritrovare probabilmente determinati aspetti o per consolidare determinati aspetti. Quindi la partita ha contenuti importanti dal punto di vista tecnico. Penso sia una partita importante per tutti e due anche dal punto di vista sportivo perché sappiamo l'importanza che ha la Coppa Italia, sappiamo l'importanza che ha arrivare in fondo a questa competizione, sappiamo che possibilità ti dà come società e quindi noi dobbiamo fare il massimo come pensiamo per poter cercare di andare più avanti possibile, possibilmente fino in fondo. Quindi riguardo alla formazione, è andare in campo una formazione che a mio avviso è in grado di vincere qualunque partita di campionato, nel senso sarebbe in grado di vincere qualunque partita di campionato. Quindi faccio sicuramente dei cambi perché voglio gestire l'energia nel miglior modo possibile, perché ho dei giocatori che secondo me hanno un alto valore e non sempre hanno trovato spazio. Non abbiamo recuperato nessuno, quindi il rosso rientrerà probabilmente giovedì o venerdì in maniera più attiva. Speriamo di recuperarlo definitivamente per Gubbio. Invece Allievi è ancora fuori, Mencagli è ancora fuori, riducano ancora fuori, sono questi i giocatori che non fanno parte della trasferta. Per quanto riguarda qualcuno che giocherà, posso dire che giocherà sicuramente Galeotti, giocherà sicuramente Averi e giocherà sicuramente Iango. Per il basket a San Severo, Riviera Banca Basket Rimini ha pagato domenica lo scotto dell'esordio in Serie 2 ed è tornata a mani vuote. 76-65 il finale per i padroni di casa. Il debutto casalingo sarà invece poi la gara più sentita, il derby con l'Uni Euro Forlì. Si gioca domenica alle 17 al Palasport Flaminio. Ospite ieri sera della nostra trasmissione Calcio Punto Basket, il vice allenatore di RBR Mauro Zambelli che ha commentato la sconfitta di domenica e si è già proiettato verso il derby. Un avvio ostico, ci aspettavamo una partita difficile così è stata. Purtroppo l'emozione soprattutto del primo quarto ci ha portato a essere un po' frenetici, a fare delle palle perse che hanno aperto il contropiede avversario valorizzando i loro punti di forza. Siamo stati bravi in alcune sezioni della gara a ridurre lo svantaggio ma poi alcuni errori difensivi purtroppo non ci hanno mai permesso di tornare competitivi per poter portare a casa i due punti. Sicuramente tra la Serie B e la 2 c'è un grosso dislivello per il tenore dei contatti, per la velocità a cui devi prendere le scelte e esordire su un campo caloroso contro una squadra che aveva appena raggiunto la finale di Supercoppa era un banco di prova molto difficile. Si è visto soprattutto in alcuni elementi un po' di emozione, un po' di tensione, un po' di difficoltà. Contiamo di aver rotto il ghiaccio e di essere al meglio per la prossima gara. Scherzi del calendario, la prima gara casalinga è proprio il derby più sentito con Forlì. Penso che sarà molto emozionante. Fortunatamente tra virgolette vengo da fuori quindi spero di essere in grado di far bene il mio lavoro con lucidità ma mi aspetto un clima torrido, mi aspetto grande supporto. Affrontiamo una squadra di altissimo profilo che ha una batteria di italiani molto costosi e che producono molto. Nella scorsa gara di ieri con Mantova sono stati decisivi Cinciarini che tra l'altro ha allenato l'anno scorso e ha fatto una stagione incredibile essendo mio coetaneo e Penna. Si aggiunge a questi Adrian che sta giocando benissimo e viene da un'annata in Serie A a Brindisi per far capire la dimensione degli avversari. Siamo comunque consapevoli del fatto che sarà un derby combattuto e che Forlì dovrà sudare sette camicie. ospite speciale di questa prima puntata il tecnico dell'Olimpia Milano Ettore Messina in studio Tommaso Rinaldi, club manager di Riviera Banca Basket Rimini. Siamo in conclusione. Vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it, anche la pagina Facebook e l'app di News Rimini. Grazie a tutti voi per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.